L'era del petrodollar sta terminando. Il petrolio perde il 30%, il 34% in meno di due mesi dai suoi picchi di fine settembre, inizio ottobre. La produzione continua ad aumentare, l'Arabia Saudita ha comunicato proprio pochi giorni fa di aver aumentato la produzione nelle ultime settimane rispetto ad ottobre. L'OPEC si riunirà il 6 dicembre per decidere un po' il da farsi. Trump, presidente degli Stati Uniti, cerca di obbligare l'OPEC e gli stati che ne fanno parte a fermare la produzione, ma vuole portare il prezzo del petrolio ancora più in basso. Si dichiara lui stesso il responsabile di questa crisi. Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui e oggi avrete capito, parleremo di petrolio, andiamo a vedere soprattutto che cosa è successo sul grafico del prezzo del petrolio. Cosa sta succedendo? Il petrolio è arrivato a toccare, ha baciato i 50 dollari e almeno nelle ultime due sessioni si sembra essere almeno per ora fermato. 50 dollari ragazzi è una soglia psicologica molto importante, non vi dimenticate che ci sono anche dei costi di produzione per estrarre e per produrre petrolio, quindi il prezzo se scende sotto certi valori metterà in crisi tantissime aziende del settore. Non solo dal punto di vista degli Stati Uniti, finora il petrolio è stato scambiato utilizzando il dollaro come valuta di scambio, la Cina si sta muovendo pesantemente per usare il yuan cinese, quindi la propria valuta. Questo toglierà il monopolio agli Stati Uniti e al dollaro americano come moneta di scambio per il petrolio. Quindi siamo di fronte ad un momento estremamente importante che va monitorato, soprattutto dal punto di vista dei prezzi. Andiamo a capire che cosa sta succedendo, dove può arrivare il prezzo del petrolio, dove invece si può fermare e rimbalzare. Ragazzi un like se questo video vi è piaciuto, vi farò ovviamente vedere una serie di articoli e però voglio anche sentire il vostro commento. Ditemi come la pensate voi, soprattutto sul monopolio del petrodollare, quindi del dollaro scambiato nei confronti del petrolio, scambiato nei confronti del dollaro e che cosa succederà secondo voi quando la Cina imporrà la sua moneta, l'uan, per scambiare petrolio. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati. Passiamo al grafico del petrolio e andiamo a fare un po' di ragionamenti insieme. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao! Ed eccolo qui il grafico del crude oil ragazzi, ovvero del petrolio, siamo sul future del petrolio, vi ricordo il ticker, cioè il simbolo del future che è CL, sono su il continuous contract, cioè il contratto quello che non ha scadenza, potrebbero, se guardate il contratto che scade a gennaio potrebbe avere una scadenza, un prezzo leggermente diverso, quindi non vi preoccupate, ma non cambia la sostanza. Allora, andiamo a vedere un po' storicamente che cosa è successo negli ultimi anni sul petrolio. Perché dopo questi massimi qua toccati tra il 2012, vedete, il 2013, quindi questo bellissimo doppio massimo, e stiamo intorno ai 110 dollari come struttura di prezzo, il prezzo è praticamente, ha continuato a scendere, quindi vedete qua è stata rotta la neckline di questo doppio massimo, la neckline è stata rotta, il prezzo è sceso, è sceso, è sceso, e aveva formato, e questo ragazzi l'avevamo visto in un video in precedenza e anche nell'analisi tecnica che vi mando via email, che si era formato questo testa e spalle qua. Questa era la prima spalla, questa era la testa, poi si erano formate due spalle a destra, e vi avevo disegnato la neckline di questo testa e spalle, fatemi fare un po' di zoom. Quindi solo per dirvi che rispetto a questi massimi qua storici del 2013-2014, il prezzo non c'era mai più tornato, non si era nemmeno mai più riavvicinato, pensate alla neckline sui 90 dollari, vedete questa era la neckline del nostro doppio massimo, il prezzo non ci si è mai più, nemmeno avvicinato, non è mai andato sopra i 75 dollari, lo vedete da qui. E poi si era formato questo testa e spalle, e quindi andiamo a commentare da questo testa e spalle qui, la cui neckline, vedete questa linea qui, la linea del collo, e c'è stato un breakout qua, questa è anche un'altra operazione che avevamo visto insieme, ve la ricorderete, è un'operazione che ho aperto in long, sulla rottura di questa neckline, con lo stop loss qui sotto, e qui c'eravamo andati a prendere un'operazione eccezionale dal rapporto rischio-rendimento di quasi 1 a 5, era stata un'operazione, veramente operazione di questo tipo, ragazzi ne capitano probabilmente una l'anno, l'avevo documentata in un video, vedete che il prezzo era salito, primo impulso rialzista, ritracciamento, secondo impulso rialzista, ritracciamento, ritracciamento, e poi di nuovo questo doppio massimo qua, vicino ai 75 dollari, neckline rotta, guardate qua che forte crash, perché questo ragazzi è un crash che c'è stato sul mercato, qui abbiamo perso, il mercato ha perso il 34%, qui ha fatto un meno 34% da inizio ottobre, quindi meno di due mesi, ok? In sei settimane ha perso il meno 34%, ragazzi bisogna tornare al 2011 per andare a vedere, ve lo faccio vedere anche da questo articolo qua, bisogna tornare indietro del 2011 per vedere una discesa di questo tipo sul petrolio, ok? Quindi parliamo di una discesa davvero davvero importante, e adesso che cosa può succedere? Allora, innanzitutto adesso bisogna stare molto attenti ragazzi, perché quando c'è un treno in corsa il prezzo può veramente arrivare, continuare a scendere in maniera anche importante, quindi quello che può verificarsi è un piccolo ritracciamento per poi continuare la discesa, siamo in un momento fortemente ribassista del mercato, ok? Qui siamo sul settimanale, ogni candela è una settimana, vedete come il prezzo è anche adesso, si trova anche sulla media 200 periodi, che potrebbe usare proprio come resistenza, se dovesse continuare a scendere dov'è che lo possiamo vedere arrivare? Beh, innanzitutto qua, intorno ai 44 dollari, questa è la prima struttura, seconda struttura a cui può arrivare 40 dollari, ma potrebbe anche arrivare al prezzo del 2016, intorno ai 28 dollari. Vi dico la verità, già in questo range, molte aziende che producono il lavoro nel petrolio si troveranno in profonda crisi, molte chiuderanno perché purtroppo il prezzo è legato tanto anche a... cioè se il prezzo del petrolio è inferiore rispetto alla produzione o all'estrazione, capite che il business model di un'azienda non regge. Lo sapete quella è la cosa che mi fa più incavolare del petrolio, soprattutto quando ho cominciato a capire meglio come si muoveva il mercato, è che nonostante qui abbiamo avuto un meno 34% di discesa del prezzo, se andate a fare benzina, e ringrazio ragazzi, ringrazio il signore che non vivo più in Italia e non ho più la macchina, quindi non ho più bisogno e non mi devo più scontrare con queste cose, ma se andate in Italia a fare, o in qualsiasi altro paese, a fare il pieno o a fare benzina, avete visto nelle ultime settimane una discesa del prezzo della benzina del 30%? No, sì magari è scesa di qualche punticino, ma pensate quanto stanno guadagnando adesso i produttori di gasolio e di benzina, quelli che lavorano nel petrolio, che stanno acquistando, stanno facendo scorte a prezzi molto bassi e stanno avendo dei ricarichi enormi. Questa è la cosa che più mi dà fastidio del prezzo del petrolio. Allora, quindi la mia visione ragazzi rimane ribassista, non può essere altrimenti nessun altro analista tecnico, ma anche fondamentale potrebbe dirvi il contrario. Certo è che non è un caso che il prezzo si è fermato appena abbaciato i 50 dollari, che è veramente come i 100 dollari, i 50 dollari sono una soglia psicologica importantissima per questa materia prima. Una delle materie prime, come mi piace spesso dire, più fortemente manipolata nel settore dei mercati controllati delle materie prime. Quindi non è un caso che si sia fermata sui 50 dollari, e qui adesso bisogna vedere che cosa farà Trump, che cosa dirà Trump, che cosa dirà l'OPEC. Una data importante ragazzi, segnatevela, è quella del 6 dicembre 2018, perché l'OPEC si riunirà per decidere un po' le sorti di questa materia prima, quindi radar puntati per mancare poche settimane a questa data per vedere che cosa succederà. Il prezzo potrebbe anche adesso rallentare in attesa degli esiti di questa importante riunione. Staremo a vedere, per ora è tutto ragazzi, grazie mille dell'attenzione, buon trading a tutti, ciao!